Questo video riguarda i migliori tre tagliapiastrelle. Il vincitore della qualità è il Bosch PTC 640. Il tagliapiastrelle PTC 640 consente una semplice incisione e rottura della piastrella in un'unica operazione. A tale scopo viene utilizzato un disco da taglio con rivestimento in titanio, estremamente duraturo, per incidere comodamente le piastrelle in lavorazione. Il tagliapiastrelle taglia rapidamente e semplicemente tutte le piastrelle fino a 640 mm di lunghezza. Al fine di tutelare la salute degli obbisti, il pezzo in lavorazione viene fissato in modo estremamente sicuro. Per incidere e rompere senza fatica le piastrelle in un'unica fase di lavoro. Disco da taglio con rivestimento in titanio, particolarmente duraturo, per incidere comodamente le piastrelle. Sicuro fissaggio delle piastrelle per tagliare e rompere le piastrelle con precisione. Base di lavoro estensibile per tagliare comodamente piastrelle di grandi dimensioni. Elevata precisione anche durante il taglio di sottili strisce di piastrelle. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il VEVOR tagliapiastrelle. La rotella in lega super dura garantisce tagli lisci, precisi e puliti. Massima lunghezza di taglio, 31,5-800 mm spessore di taglio, 0,24-0,6-6-15 mm. La testa scorrevole aggiornata garantisce un taglio più fluido. In particolare, ne forniamo una in più gratuitamente. La nuova funzione di posizionamento laser a infrarossi può migliorare efficacemente la precisione di questa taglierina per piastrelle in gress porcellanato. Il telaio dell'utensile manuale per tagliapiastrelle è realizzato in materiale pesante interamente in acciaio, compatto, resistente e robusto. L'impugliatura in gomma antiscivolo è ergonomica e più comoda da usare, offrendo un'esperienza di utilizzo migliore. La taglierina per piastrelle. Il vincitore del premio è il VEVOR tagliapiastrelle. Il telaio di questo utensile per tagliapiastrelle è realizzato in alluminio ad alta leva, compatto, resistente e durevole. Le solide guide rendono il lavoro di taglio più preciso e adatto per un uso a lungo termine. Base spessa in gomma antiscivolo. La funzione di posizionamento a infrarossi laser recentemente aggiornata può migliorare efficacemente la precisione del taglio. Due viti fisse. La ruota taglierina in lega super dura assicura ritagli lisci precisi e puliti. Larghezza di taglio entro 35-800 mm. Max spessore di taglio 6-15 mm. L'impugliatura in gomma antiscivolo è ergonomica e più comoda da usare, offrendo una migliore esperienza d'uso. I tavoli di supporto mobili aggiungono la massima versatilità di taglio. La scala precisa può eseguire tagli accurati di diverse dimensioni in modo come... Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.